Aumentare le tasse non è facile, ma non c'erano alternative. Così l'assessore Paolo Mandracchia replica le recenti polemiche in vista della seduta consigliare di lunedì prossimo con all'ordine del giorno le nuove tariffe della Tari, la tassa rifiuti. Non può far soltanto piacere a un'amministrazione appena insediata, parliamo per il 2017, portare alla collettività un aumento dell'11% della Tari. Sicuramente non è un'azione che preferivamo, ma purtroppo siamo obbligati dalla norma perché quelli che in questi giorni sono intervenuti mentono e sanno di farlo e questa è la cosa un po' più grave. Al consigliere Giuseppe Miglioti l'assessore Mandracchia ricorda come sia stata proprio l'amministrazione da lui sostenuta, quella guidata da Fabrizio Di Paola, a decidere di spalmare i maggiori costi del servizio del 2016 nei tre anni successivi. Oggi tentare di far passare il messaggio che c'era una soluzione che l'amministrazione Valenti non ha saputo trovarla, veramente è vergognoso. Perché? Perché quando le cose non le sai o non si sanno, allora può capitare che uno è indotto all'errore, ci mancherebbe. Ma quando solo si fa ad arte, sinceramente noi non possiamo accettare questo tipo di accuse. Avremmo preferito trovare una soluzione se la legge ce lo consentiva, ma purtroppo siamo obbligati e noi nel rispetto alla norma abbiamo agito. Poi quelli che parlano di soluzioni, nel 2016 ci sono stati questi maggiori costi dovuti all'emergenza rifiuti, su quello non c'è dubbio, sono intervenuti, ma anche lì i noli non furono fatti a freddo, furono fatti a caldo, cioè quindi non solo affittare gli automezzi ma anche il personale, quando si poteva utilizzare il personale della Soger, perché se un personale è in ferie nel caso di emergenza può essere richiesta la collaborazione dei dipendenti e invece lì fu fatta una scelta del nolo a caldo. Passata la scelta del nolo a caldo c'è un elemento di legge caratterizzante che si riflette anche sull'aumento che noi ci prestiamo a portare in aula. Il 23 di dicembre del 2016 la Soger ha comunicato al Comune di Sciacca che l'aumento del conferimento in discarica passava da 83 euro a 125 euro, oltre IVA. E allora l'amministrazione precedente, quindi anche quei signori che in questi giorni sono intervenuti, avevano l'obbligo di legge di aumentare la Tari entro il 31 marzo del 2017. Non solo non lo hanno fatto, ma hanno spalmato il debito del 2016 sulle tre annualità degli esercizi successivi, quindi 2017 283 mila euro, 244 mila euro nel 2018 e 244 mila euro nel 2019. Queste cose alla città le vogliamo ricordare. Chi oggi punta il dito sull'amministrazione in carica, aggiunge l'assessore, sa benissimo che i costi di raccolta e conferimento devono trovare copertura finanziaria nei ruoli Tari, ad esclusione di 23 mila euro relativi al servizio di pulizia a spiagge e 108 mila euro per il servizio di scerbatura e derattizzazione che vengono coperti in parte dalla tassa di soggiorno e la restante somma da risorse del bilancio comunale.